Siamo all'antico mercato di Ortigia, vi faccio vedere questa location che un tempo era il mercato del pesce, oggi ristrutturato come località culturale. Sarà il mondo dei fumetti ad unire Alessandria e Siracusa con la promozione del territorio veicolata attraverso l'amore per i balloons. Il nuovo progetto Siracusa e Alessandria e l'Italia fumetti punta il riflettore su un legame finora inesplorato fra le due città che separate da 1457 km si ritrovano però unite dall'amore per il fumetto da parte di due loro firme illustri. Abbiamo scoperto un nuovo legame fra Alessandria e Siracusa con cui siamo gemellati da oltre 5 anni e appunto la passione di due grandissimi scrittori, personaggi della cultura italiana come Elio Vittorini da una parte e Umberto Eco dall'altra per i fumetti. È un settore che ha sempre attratto la loro attenzione e che sempre hanno considerato come parte integrante della cultura del nostro paese innanzitutto oltre che mondiale. Significativa la frase dell'Alessandrino, se devo rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo corto maltese. L'iniziativa Siracusa Alessandria e l'Italia fumetti è un nuovo progetto che si inserisce nell'ambito del gemellaggio contaminazioni virtuose che lega la nostra Confcommercio a quella di Siracusa dal 2016. È un progetto che abbiamo pensato per poter realizzare anche in questi tempi di ripresa dopo la pandemia delle azioni di marketing territoriale. Siamo particolarmente orgogliosi, ora che entreremo in questi giorni nel vivo di questa iniziativa, di poterci presentare a Siracusa con un partenariato territoriale molto solido perché accanto alla nostra associazione avremo tutti i partner istituzionali del territorio alessandrino che stanno lavorando in modo compatto e coeso per presentare le nostre eccellenze al mondo turistico nazionale e internazionale. L'iniziativa della Confcommercio di Alessandria e di quella di Siracusa con il patrocino e contributo della Camera di Commercio di Alessandria Asti, il patrocino della Regione Piemonte, del Comune di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di Alexala e con la partnership di Ale Comics intende partire dal tema culturale per estendere il proprio ambito anche alla promozione del territorio, all'attività di uncoming e alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche. Da parte nostra abbiamo subito aderito a questa iniziativa perché creiamo che la promozione del territorio nella sua complessità sia un elemento fondamentale per il territorio stesso, quindi un plauso all'Ascom che ha ideato questa iniziativa, come Camera l'abbiamo supportata nel migliore dei modi. Fa parte di un progetto più ampio che si chiama Alessandria Incoming, quindi ci sarà un grande partenariato pubblico privato, parteciperanno anche operatori privati, ci sarà il Consorzio di Promozione Turistica Alexala per raccontare la nostra Alessandria fuori e ovviamente lavorare per portare visitatori e turisti qui in Alessandria. La prima pagina di questa striscia partirà il 1 settembre con l'inaugurazione della settimana vittoriana Siracusa, arrivando l'11 e 12 settembre in Cittadella ad Alessandria con Ale Comics.